Fin qui è stato veramente difficile e ci sono stati solamente, e ci sono state solamente tre trappole ragazzi, ok Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo e fantasticissimo video Come state? Spero tutto bene Allora, 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 innanzitutto voi lasciate subito un like perché questo sarà un video incredibile Vi mostrerò la base più sicura del mondo Guardate che roba, la base più sicura di Minecraft in assoluto È super protetta Nessuno riuscirà mai a raidare questa base Nessuno, a meno che nessuno, di a meno che nessuno, sì, nessuno di a meno che Forse, forse bella faccia potrebbe riuscire a raidare questa base Vediamolo subito Allora, come possiamo vedere questa base è piena zeppa di trappole ragazzi Cioè, guardate, non spoileriamoci niente Mi metto subito in survival perché voglio esplorare questa mappa Villager, vuoi darmi una mano per esplorare questo castello inespugnabile? Eh? Villager? Oh Villager? Niente ragazzi Non parla Mucca, porca miseria, qua sopra ci devo stare io Allora, vediamo Possiamo subito notare che qui c'è un super muro di ossidiana Vedete? Non si può fare nulla con questo muro di ossidiana Bisogna per forza prendere dei blocchi, dei materiali E riuscire ad oltrepassare questo muro di ossidiana Perché questo muro è a prova di sicuramente TNT Una volta arrivati qua ci saranno delle TNT pronte ad aspettarci Porca miseria, quindi bella faccia Arrivederci Perfetto, dopo aver fatto esplodere tutte le TNT Tutta la base sarà ricoperta da questo fuoco È a prova ragazzi di Raid Ok, continuiamo a provare se riusciamo ad oltrepassare questa base Ok, rimettiamoci in survival Una volta arrivato qui ci sarà tutto il fuoco ad aspettarsi Però per i più fortunati ci sarà la netherrack senza fuoco Quindi oltrepassiamola, ok Ad aspettarci ci sarà un muro di ragnatele Quindi sarà ultra difficile da attraversare Non dovevo mangiare tutte quelle patatine Ok, siamo riusciti ad oltrepassarla Ovviamente se ci sono degli arcieri pronti ad aspettarci Questo muro ci farà sicuramente rallentare un sacco Ecco, ora c'è l'ostacolo numero due Il magma block ragazzi, guardate Come sappiamo tutti il magma block Ah io ci fa malissimo Però shiftandoci non ci farà male Però ovviamente se noi ci shiftiamo E ci sono degli arcieri che ci stanno puntando Ovviamente saremo delle prede succolente da mangiare Quindi per fortuna non c'è nessuno ad aspettarci Ok, fin qui è stato veramente difficile E ci sono stati solamente E ci sono state solamente tre trappole ragazzi Ok, continuiamo ad aspettarci adesso Ci sarà un muro Un muro in crescita Cioè un muro Una siepe Una siepe ma non di castagne Ma non di caramelle Ma non di alberi Non di foglie Una siepe di bacche Di bacche dolci Che faranno un sacco male Un sacco Un sacco male Prepariamoci Perché sto sprofondando Porca miseria Devo passare di lì per salvarmi Cavolo Appena andrò giù Inizieranno a punzecchiarmi Però è strano Non mi stanno punzecchiando Non so perché non mi stanno punzecchiando Non so perché non mi stanno punzendo Saranno sicuramente buggate Però non posso neanche saltare Guardate Non posso saltare Che sto sprofondando giù E sicuramente se ci fossero stati dei cecchini Io sarei già morto a quest'ora Ok, una volta andati qua Basterà andare qui e qui Ok Questi cactus Sono messi diciamo Un pochettino male Secondo me Perché bisognerebbe Metterli in questo modo Ecco vi faccio vedere adesso Bisognerebbe metterli Uno qui Uno qua Uno qui Uno qua Ecco In modo tale Da fare una barriera Perché questo qui sicuramente È fatto in modo Che i mostri Non riescano a passare Però questo qui Per i player È molto molto più efficace Perché guardate Come fanno a passare Non si può sicuramente passare Ok Arriviamo adesso a un muro Questo qui È fatto principalmente Per i mostri Perché guardate Lassù ci sono i golem di neve E sicuramente i mostri Non riusciranno a passare Adesso voglio fare Una piccola prova Mettendo Vediamo Degli scheletri Degli scheletri Anzi Degli zombie Secchi Ok Proviamo a mettere Degli scheletri qua Ragazzi Vediamo Ecco Come immaginavo I golem di neve Non riescono ad attaccarli Vediamo Se io dovessi aprire qua Eh Loro cascherebbero Oh mamma mia Ok Quindi Questo qui Diciamo che forse È solamente per i phantom Ma vai Giù di sotto Maledetto scheletro Ok Stavamo dicendo Che una volta arrivati qui Sarà molto semplice Oltrepassarlo Perché questo diciamo Che è fatto in modo Per tirare Diciamo che da qua Bisogna tirare con l'arco Da tutti gli invasori Che arrivano E li distruggeremo Tutti di frecce Ok Una volta arrivati qua Basterà entrare E ci saranno altre No Non mirarmi Porca miseria Devi andare al sole Devi andare al sole Ti devi abbronzare Perché sei bianco Ecco Non hai messo la crema protettiva Una volta arrivati qui Ci saranno dei super laser Ad attenderci Sto scherzando Sono solamente di decorazione Questi sono dei fari E ci sarà Un mare Di lava Ecco Qui sicuramente Sarà molto difficile Arrivarci Bisogna sicuramente Utilizzare Dell'enderpearl E se non abbiamo L'enderpearl Dovremmo andare Per forza Qua sopra Ma sarà veramente difficile Perché qui sarà Tutto protetto Quindi voglio proprio Vedere A chi riderà mai Questa fortezza Invalicabile Ok Adesso entriamo Salve Si può Come possiamo vedere Tutto il pavimento E di ossidiana Facciamoci un giretto Perché questo sicuramente È a prova di TNT Cioè guardate che muro È spessissimo Cioè voglio proprio vedere Un super cannone di TNT Se riuscirebbe a distruggere Tutta questa base Ed ecco qua ragazzi Siamo arrivati Siamo arrivati Nella nostra super fantastica Base segreta Più potente del mondo E più sicura Potrete tenere tutte le vostre cose Al sicuro Come i diamanti Dentro il calderone Sì perché anche i diamanti Vogliono fare un bagno D'estate Mi raccomando Non un'ora prima di mangiare E poi all'interno È veramente grande Cioè guardate Potrebbero starci tutti 50 ladroni Gli haters Gli hacker Più temibili Oppure potrebbe essere Il castello Della principessa incantata Ecco qui abbiamo Tutte le cosine Per difenderci Qui c'è uno specchio gigante Io voglio vedere Sopra Se c'è una specie Di cannone Per difendersi No C'è solamente una torre gigante Che da qua Si può vedere tutto Cioè guardate Chi riuscirebbe mai A entrare dentro Questo castello Ragazzi Cioè voglio proprio vedere Ok adesso supponiamo Che io sia un invasore Un grieifer Ho tutte le cose Nel mio inventario Per griffare questa base Vediamo quanto ci metto E quanti danni faccio Ok via Allora bisogna subito Entrare qua Poi se c'è qualche guardia Bam Gli spariamo Qui ovviamente C'erano le TNT Qui ragazzi Bisogna prendere Il secchio di lava Mamma mia È già ultra difficile Cioè guardate Non sto mai guardando Avanti Quindi mi potrebbero Triturare con le frecce Poi passiamo di qua Mi sono scordato Anche la spada Iniziamo a raidare Tutto Forza Possiamo anche usare Le enderpearl E andiamo di là Forza Vedete Però non è così Semplice come sembra Ok ci siamo Iniziamo a mettere Tutta la TNT Sembra che sto andando Veloce ma ci sto mettendo Veramente tanto Se ci fossero già Degli arcieri Mi avrebbero già Ucciso ragazzi Ok Raidiamo tutta questa base Forza Andiamo qua Ok Perfetto Uh ecco Vedete Questo è fatto in modo Che uno Tiri l'enderpearl Lì Perché vi faccio vedere Da fuori Non si vede Ma da dove si esce Vi stavo dicendo Che da fuori Non sembra Che ci sia Un buco Se quindi è fatto Proprio apposta Ok ragazzi Distruggiamo tutto Distruggiamo tutta Questa fantastica base Oh mio dio Andiamocene via Ecco poi se un cannone Di TNT Attaccasse da lì Ecco come possiamo Vedere l'acqua È un punto debole Di questa base Perché sono morti E i golem di neve Comunque sia Se un cannone Sparasse da là Il pavimento Non si romperebbe Si romperebbero Solo queste Che sono molto Facili da riparare E quindi è veramente Difesa questa base Quindi se un invasore Entrasse da qui Vediamo quanti danni Potrebbe fare Vediamo 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 Ok Oh mio dio Oh sto esplodendo tutto Ok è riuscito ad entrare Però vedete la fatica Che sto facendo E poi non c'è nessuno A difenderla Ok adesso voglio provare A mettere Della lava In cima Per vedere Che cosa succede Se questo castello È veramente difeso Vediamo Proviamo a mettere Della lava qua Lava qui 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 Un sacco Ne mettiamo E andiamocene via Mettiamo anche la TNT Ok mettiamo anche la TNT E chissà che cosa succederà Sta esplodendo Andiamocene via Andiamocene via Andiamocene via 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 Sta esplodendo Sta esplodendo Chissà che cosa è successo Oh mio dio Un disastro Guardate Oh Ok È successo un disastro Bene Comunque sia Come potete vedere Non c'è nessuna base Che Possa Resistere A bella fazza Perché bella fazza È riuscito anche a raidare La base più sicura Di minecraft Ecco qua Ok ragazzi Io spero che questo video Vi sia piaciuto Mamma mia La base Più sicura Di minecraft Lasciate un grandissimo like E fatemi sapere Qual è La difesa che vi è piaciuta Più di tutti E se volete replicarla Fatelo pure Perché alcune cose Sono veramente utili Secondo me Da bella fazza è tutto Ci vediamo A un prossimo video E ciao Ciao